Buonasera a tutti. Il nostro Paese sta attraversando la fase acuta dell'emergenza. Oggi abbiamo superato 13.155 decessi. Questa è una ferita che ci addolora particolarmente, una ferita che mai potremo sanare. Non siamo nella condizione di poter allentare le misure destrittive che abbiamo disposto, non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti. Detto questo, siamo in stretto contatto sempre con il Comitato Tecnico Scientifico, i quali ci rappresentano che si iniziano a vedere gli effetti positivi delle misure restrittive sin qui adottate. Ma, ripeto, non siamo ancora nella condizione di poter iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa. È la ragione per cui ho appena firmato il nuovo DPCM, che proroga, lo avevamo già anticipato tramite il Ministro Speranza, che proroga l'attuale regime delle misure, così come sono state disposte, sino al 13 aprile. Noi ci rendiamo conto che vi chiediamo un ulteriore sforzo, un ulteriore sacrificio, ma questo lo dobbiamo afferrare tutti. Se noi smettessimo di rispettare le regole, se iniziassimo ad allentare queste misure, tutti gli sforzi sin qui fatti sarebbero vani. Quindi addirittura pagheremo un prezzo altissimo, perché oltre al costo psicologico, al costo economico, sociale che sin qui stiamo affrontando, saremo ricostretti a ripartire di nuovo. Un doppio costo, non ce lo possiamo permettere. È per questo che invito tutti, vi ringrazio, ma invito tutti anche a continuare a rispettare le misure. E attenzione, c'è una sparuta minoranza, per fortuna una sparuta minoranza di persone, ci sono alcuni che non rispettano le regole. vorrei ricordare che abbiamo disposto delle sanzioni molto severe, delle multe anche onerose dal punto di vista economico. L'abbiamo fatto perché non ci possiamo permettere che l'irresponsabilità di alcuni possa comportare un danno nei confronti di tutti. E dobbiamo anche il rispetto nei confronti delle persone che addirittura arrischiano la propria salute, come il personale medico che è più direttamente esposto, gli operatori sanitari che sono più direttamente esposti ai focolai di contagio. Lo dobbiamo a tutti, anche i lavoratori, che semplicemente quotidianamente ovviamente vanno al lavoro mandando avanti il Paese. Mi dispiace che queste nuove misure capitano in un momento particolare, anche in un momento una solenne festività, a noi tutti italiani cara, la Pasqua. È un momento di serenità, condivisione, anche di amore, di pace tra di noi, ma saremo purtroppo, lo dico particolarmente dispiaciuto, personalmente dispiaciuto, saremo purtroppo ad affrontare anche questi giorni di festività con questo regime restrittivo. Questo ci consentirà, questo sforzo ulteriore che vi chiedo, ci consentirà di iniziare a valutare, sempre con le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico e dei nostri esperti, una prospettiva. Nel momento in cui i dati dovessero consolidarsi, nel momento in cui il Consiglio degli esperti ce lo permetterà, inizieremo già a programmare un allentamento delle misure. Non vi posso dire però il 14 aprile, non siamo nella condizione. Quel che è certo è che noi continuamente lavoriamo e ci confrontiamo con loro, nel momento in cui avremo, valutando quello che succederà e quindi la curva epidemiologica nei prossimi giorni, queste due settimane, noi inizieremo ovviamente a valutare e ad abbracciare anche la prospettiva di entrare nella fase 2. La fase 2 è quella di convivenza col virus, di adottare delle misure, diciamo, che pian piano portano all'allentamento per poi entrare nella fase 3, che è quella dell'uscita dall'emergenza. La fase 3 è l'uscita dall'emergenza, il ripristino dell'assoluta normalità delle nostre attività lavorative, delle attività sociali. La fase 3 è la fase della ricostruzione, del rilancio della nostra vita sociale ed economica.